Cosa? Da Roma Da Roma Ho sulle spalle soltanto il 243 trasferte di Romario che tante volte l'abbiamo fatta insieme e tante volte è tornato solo lui perché mi aveva trattenuto ma per delle formalità, documenti, eccetera comunque adesso ho fatto gli scherzi mi sono contento perché nonostante io non sia più di questa squadra questa è una squadra che ha dato moltissime gioie ai tribusi da Roma e tante altre ne darà perché io la faccio breve, te ne preoccupare perché non essere sul libro paga di nessuno è la più grande ricchezza che una radio può avere se sei al libro paga di qualcuno non sei nessuno qualcuno mi ha detto e finisco ma sai forse tu perché sei invidioso perché non ti hanno chiamato a me ripeto io se non posso al pagliasso a casa grazie Doria